Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e l'Ufficio delle Dogane Napoli 2 hanno sequestrato circa 3 tonnellate di rifiuti di vario genere diretti ad una società operante nel settore del recupero e riciclaggio dei rifiuti tessili di Milano, ma con sede operativa a Marcianise. In particolare i funzionali della sezione di staccata di Nola, unitamente ai finanzieri del gruppo di Nola, a seguito di specifiche attività di analisi di rischio, hanno individuato e successivamente sottoposto a verifica la merce trasportata da un autocarro proveniente dalla Svizzera. Al termine dell'ispezione sono state rinvenute scarpe, cinture, borse, giocattoli, zaini, medicinali, materiale elettrico importato in violazione delle procedure autorizzative previste dall'Unione Europea e dalla Normativa Nazionale per le Spedizioni Trasfrontaliere, denunciato responsabile per traffico illecito di rifiuti.